Mr. Camplone, quali indicazioni era la partita con il Palermo? Ottime, squadra in salute, abbiamo fatto un'ottima partita, tutti quanti si sono messi a disposizione, hanno dato il massimo, quindi credo che sia stato un buon test da parte nostra. Ha provato ovviamente tutta la rosa, o quasi, non è entrato in campo come otto, c'erano motivi particolari? Ma no, è stato che questa settimana abbiamo lavorato abbastanza, qualcuno aveva un po' di problemini e non abbiamo rischiato, quindi né lui né Massoni né anche Barison sono stati la partita, quindi ho cercato di far ruotare un po' tutti quanti, però in alcuni ruoli purtroppo eravamo un po' corti. Ha provato anche P.C.M. nel secondo tempo là dietro? Sì, ha fatto anche molto bene, sia a centrocampo che in difesa. È normale che quando trovi queste squadre che giocano a basso ritmo e lui ha le leve lunghe, quindi va a nozze, poi un attimino va un po' in difficoltà quando le partite sono accese, più veloci. Però oggi ha fatto una grandissima partita, secondo me, attento, concentrato, ha fatto anche delle buone giocate sia a centrocampo e è stato molto attento in fase di difensiva. Questa partita è venuta dopo una settimana in cui ha caricato particolarmente il Perugia e adesso, per la partita di venerdì prossimo, qual è il programma? Il programma faremo lunedì, riprenderemo, visto in virtù della partita di venerdì, quindi sarà un programma molto di scarico, come è giusto, per arrivare molto più in panti venerdì sera. Ianko Privez, abbiamo scoperto come si deve pronunciare il cognome del portiere di Perugia. Allora, buona sgambatura contro il Palermo, come l'avete preparata e che cosa in particolare vi attendevate da questa partita? Niente, dopo una settimana che abbiamo caricato molto le gambe, penso che era veramente un bel test per noi. Penso che la partita comunque è andata abbastanza bene, soprattutto dal punto di vista di gioco. E' bene, bene, bene così, dobbiamo continuare così perché questo era un amichevole, però venerdì prossimo ci aspetta la partita vera, quindi da lì in poi che si riparte. Ecco appunto, oggi il Perugia ha fatto il ruolo che normalmente vede fare agli altri, cioè la squadra meno forte che alza i ritmi per aggredire quella forte. Però venerdì c'è il Grosseto, di cui un antipasto abbiamo avuto già in Coppa Italia, è stato un po' amaro perché lì siamo stati buttati fuori. Che partita state costruendo per attendere il Grosseto? No, subito dal lunedì si inizia a preparare benissimo la partita, Grosseto come sappiamo ha già in campionato, come detto lei in Coppa, non è andata benissimo e abbiamo tanta voglia di riscatto. Quindi come per tutte le partite che dobbiamo giocarle benissimo è perché quelli dietro stanno vincendo tutti, quindi noi dobbiamo fare altrettanto. Ecco domani guarderete con un occhio particolare quelli dietro oppure ancora il Perugia deve pensare essenzialmente a se stesso perché ancora c'è molto da giocare in questo campionato? No, penso che sì, domani si guardano le partite però non si decide niente domani, nel senso noi riposiamo, come devono riposare ancora tante squadre, però per Perugia c'è ancora 14 partite da giocare che sono tutte importantissime e saranno tutte per noi le finali diciamo. E sarà molto importante ogni partita per partita andare con il piglio giusto e cercare di vincerele tutte. Hai detto tu di vincere tutte perché effettivamente occorrerà vincerne parecchie per tenere a bada le altre formazioni. Avete in particolare nel mirino Lecce e Frosinone? Sì, diciamo che sono le due squadre che come noi ultimi due mesi hanno un andamento di tante vittorie e quindi siamo tre lì in su che abbiamo quasi lo stesso rendimento. Lecce non è partito benissimo come noi, non siamo partiti benissimo però ora si sta rivelando una bellissima squadra. Quindi sarà difficile per tutti però questo è bello, il campionato sarà difficile però noi siamo qua per giocare le partite importanti e siamo pronti a quello. I nuovi arrivi, chi è già arrivato, chi arriverà, che accoglienza troveranno? Sarete pronti a farli integrare nel gruppo nella consapevolezza che c'è bisogno di tutti? Immagino che sia questo lo spirito con il quale... oppure ci sarà qualcuno che magari teme che la concorrenza aumenti? No, io penso che tutto quello che la società sceglie secondo me sono tutti giocatori importantissimi e saranno colti benissimo, nel senso se... Si devono anche loro comportare benissimo, che qua devono sapere che stanno arrivando in gruppo già ben formato e si devono adeguare e noi li accogliamo a braccia aperte. Sarà bisogno di tutti, quindi c'è anche dello stesso NT che è molto forte, importante è il carattere e la voglia anche quando si entra o si inizia dal primo minuto di dare sempre tutto diciamo.